ragazzi io mi prendo solo la qualificazione mi prendo solo la qualificazione stasera perché siamo riusciti a prendere tre gol anche da questo ren qua cioè sto guardando adesso i dati 22 tiri abbiamo subito di cui otto importa 22 tiri dal ren 22 tiri ma si può ma abbiamo una una fase difensiva imbarazzante sette gol subiti contro monza e ren ma domenica come ci presentiamo contro l'atalanta siamo in una condizione fisica e mentale pari a zero e abbiamo due partite difficilissime difficilissime con atalanta e lazio insieme io sono preoccupato detto sinceramente sono proprio preoccupato una fase difensiva che non esiste contro queste squadre qua ma io non capisco davvero io non capisco come si faccia a non preoccuparsi del della fase difensiva è incredibile cioè va bene fare un gol in più dell'avversario però se devi prendere ogni volta tre gol è dura fare sempre quattro gol oppure se ne pigli quattro non è che puoi fare sempre cinque gol ci sono partite in cui magari non ti riesce una giocata che sia una e hai bisogno di difendere un determinato risultato ma così no così siamo siamo messi veramente male veramente troppo male già col monza non commento neanche con ren stasera abbiamo perso ancora con veramente un una superficialità un una leggerezza ma mentale positiva gli ho visti proprio appesantiti a livello di condizione fisica segna jovi c'è ancora un gol importante perché comunque il gol di jovic è relativamente importante per quantomeno non soffrire troppo nel finale per per noi e poi anche leao fa un gol veramente bello a mio parere di pura potenza fisica ma dopo aver sbagliato anche lui due gol che leao delle migliori condizioni non avrebbe mai sbagliato a mio parere quindi anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni però abbiamo avuto proprio il menefreghismo totale del del giocare questa partita forse troppa forse troppa perché abbiamo rischiato davvero poi il ren bisogna fargli complimenti è burgino avoli del ren molto molto interessante come giocatore è però veramente non potevamo soffrire così tanto con con una squadra che non sta facendo neanche bene in campionato francese ma a prescindere il milan queste partite le deve giocare con un'altra mentalità con un'altra solidità difensiva con un altro modo di stare in campo non questo assolutamente no quindi io mi prendo solo la qualificazione stasera ma io contro l'atalanta a san siro io voglio un'altra partita io voglio assolutamente un'altra partita un'altra mentalità un altro milan perché così non andiamo avanti la situazione è preoccupante